lo sapevo sapevo che sarebbe arrivato questo momento arriva sempre nella vita di ogni uomo arriva sempre il momento di prendere una decisione devo fare una scelta vi starete ovviamente chiedendo che scelta è allora mi sono posto una domanda cosa sceglierei tra due strumenti da taglio più o meno a parità di dimensioni e anche di spazio occupato gli strumenti che andrò a valutare in base poi appunto alle prestazioni che testeremo tra poco sono due una piccola accetta come vedete è compattissima una cosa del genere non occupa per niente spazio nello zaino tra l'altro manico cavo quindi è leggerissima questa è la fiskars x5 oppure un bel coltellazzo tra l'altro un coltellazzo che non avete mai visto se non in un video in cui dicevo di averlo un coltello bello pesante grosso che può anche come un'accetta spaccare legno sto parlando del fox parang lo uso pochissimo perché per me è troppo grosso di solito preferisco portarmi sia un'accetta che un coltello più piccolo il coltello fa lavori di taglio normali se devo spaccare legna preferisco utilizzare un'accetta però dato che ho un grosso coltello e ho una piccola accetta vedete cioè le dimensioni più o meno sono quelle cosa sceglierei se dovessi scegliere soltanto uno dei due dato che non lo so quale può essere più comodo facciamo un bel test così vediamo quale dei due vince per me il primo test che voglio andare a fare secondo me avvantaggerà un po l'accetta dato che ha tutto il peso concentrato nella zona della testa però comunque questo coltello in particolare è fatto per lavorare è bello tosto e pesante e soprattutto ha questa parte qui verso la punta bella bombata che lo rende più pesante è adatto quindi a spaccare perciò dato che sto qua con questo bel pezzo di legno andiamo a cercare di romperlo inizierò prima col coltello vediamo come se la cava per poi continuare con l'accetta che è sicuramente secondo me sarà più efficiente iniziamo è una bomba questo coltello ragazzi è una cosa pazzesca ve lo faccio vedere meglio ho dato tre colpi e guardate già quanto legno si è mangiato continua non sto neanche facendo fortissimo tra l'altro quanto cavolo affonda sto coltello qui non ho neanche tanto spazio per potermi muovere e colpire bene qui c'è un altro pezzo di legno quindi pensate a quanto è efficiente comunque un coltello una bomba proviamo ora con l'accetta il coltello è stato veramente una bomba in pochi colpi il ramo si è spezzato fatica zero quindi è stato bello efficiente vediamo come si comporta l'accetta con un ramo che è più o meno dello stesso diametro secondo round il primo secondo me se lo sono giocati come si deve entrambi pensavo che avesse più vantaggio l'accetta ma il coltello è andato veramente da dio probabilmente anche perché stavo colpendo con l'accetta praticamente perpendicolare al pezzo di legno alle fibre con il coltello avendo il ramo che andava verso l'alto tagliavo più in diagonale quindi comunque diciamo che è meglio affondare nel legno in quel senso lì piuttosto che andando a menare in senso perpendicolare però comunque il coltello veramente non mi sono stancato stesse dimensioni il pezzo era di buona qualità cioè non era marcio eccetera avete visto pieno di resina tra l'altro quindi dura di più nel tempo non mi sono stancato assolutamente secondo round dicevo è arrivato il momento del batoning ovviamente mentre con un coltello dovete andare a appoggiare sopra la lama e abbattere con un pezzo di legno con un'accetta non è necessario ora dato che questa è piccola comunque proverò anche quel tipo di tecnica ma questo primo pezzo di legno proviamo a spaccare nella maniera classica allontano le gambe tutto perché un'accetta piccola e più pericolosa utilizzare può sfuggire dato che è corta potreste non prendere il pezzo di legno bisogna stare attenti quindi una volta accertato che è tutto quanto ok possiamo procedere vado con una mano sola bam e subito riuscite a spaccare un pezzo di legno molto più rapida e immediata vedete senza fare fatica sto riuscendo a rompere questo pezzo di legno quanto ci ho messo per ottenere questi pezzettini di legno spaccati praticamente niente quindi comunque l'accetta rimane bella rapida e veloce per dividere le fibre del legno continuiamo con una delle tecniche che possibile attuare prevalentemente con un accetta vedete che per spaccare la legna una accetta non arriva lì questo essendo poi tra l'altro piccolina e scomoda mi sto scazzando le dita qua in mezzo se ne avessi una normale sarebbe molto meglio però intanto per essere così corta sta lavorando bene direi e ficcati vabbè vedete semplice ora passiamo al coltello dato che è pesante sto coltello soprattutto in punta come vi dicevo voglio provare a colpirlo longitudinalmente esattamente come se stessi usando un accetta proviamo così giusto per vediamo cosa succede ecco soprattutto è molto difficile colpire un pezzo di legno precisamente beh dai con i pezzi piccoli si potrebbe fare non è impossibile meglio ovviamente l'accetta è molto più comoda e soprattutto avendo una testa più larga penetra meglio nel legno ma se proprio volete farlo si può fare non può mancare anche il batuning normale questo è avvantaggiato rispetto ad altri coltelli perché vedete quanto è lungo quindi sicuramente non ci sono problemi anche se il pezzo fosse più grande non non sarebbe un fastidio insomma e utilizzerò la mia nuova clava sta cosa è bestiale se la do in testa a qualcuno mi sa che fa una brutta fine continuiamo ecco questo pezzo di legno è un po rovinato vedete che schifo vabbè non va bene proviamo quest'altro che quello che abbiamo rotto prima vieni a me clava del potere guardate con che facilità riesce a aprire un pezzo di legno e le fibre come al solito nel pino non sono belle parallele sono sempre curve mezze intrecciate tutto vedete come curva il legno è come al solito è proprio un piacere rompere la legna così cioè io volevo fare una sfida però sembra di avere in mano la stessa cosa lo stesso strumento cioè mi avete visto in tutti i video non utilizzo mai il parang perché boh troppo grande troppo pesante scomodo porca miseria lo sto rivalutando mi piace mi piace cioè è un cavolo di coltellaccio che sa il fatto suo porca miseria come sta lavorando bene pensavo che l'accetta fosse in netto vantaggio sullo spaccare la legna distruggere invece il parang non teme proprio il confronto stanno facendo una gara di motocross stanno rompendo veramente le scatole stanno tizi che corrono avanti e dietro quindi se sentite casino sono loro sentite cioè boh vabbè andiamo avanti però allora passiamo ai lavori di fino lavori per cui si pensa che un coltello dovrebbe essere in teoria più avvantaggiato proviamo a fare una punta ad esempio facciamo che vogliamo un picchetto no quindi dobbiamo andare a fare una punta ovviamente posso lavorare anche in questo modo qua sentite vabbè posso lavorare in questo modo qui addirittura ho anche quest'insenatura per infilarci il dito per essere ancora più preciso e insomma vabbè facciamo che abbiamo avuto la nostra punta dobbiamo fare la nostra tacchetta quindi andiamo a schiacciare per affondare nel legno e subito otteniamo la nostra tacca non ci vuole molto è un lavoro che il coltello fa benissimo ecco la nostra tacchetta qui ovviamente deve andare soltanto a bloccare una corda ci avevo messo poco tempo ma un accetta invece come facciamo vediamo per me parlo per miei gusti personali lavorare in questo modo come se fosse un coltello facendo finta che io abbiamo un coltello per me parecchio scomodo c'è mi ci trovo proprio male mi stanco pure parecchio forse così un po meglio ma si è proprio scomodo fidatevi che di tagliare taglia anzi forse taglia meglio del coltello dato che ha un bisello scandinavo affilatissimo quindi di tagliare assolutamente taglia però si sta proprio scomodi quindi secondo me va utilizzata per fare sti lavori anche di fino comunque come un accetta troviamo una base d'appoggio e andiamo a battere sfruttiamo la base d'appoggio per fare tutto quanto proviamo vogliamo fare la nostra punta la nostra tacca dell'ipotetico picchetto utilizziamo come si deve l'accetta troviamo una superficie d'appoggio e lavoriamo così secondo me si otterrà un risultato altrettanto decente in molto meno tempo abbiamo la nostra punta vogliamo una tacca benissimo un attimo che sistemo qua il pezzo di legno vogliamo una tacca dicevo per fermare la corda tac colpiamo e poi sfruttando la pressione dato che stiamo qui appoggiando si è rotto il pezzo di legno vabbè la rifaccio qua tac dicevo andiamo a sfruttare l'appoggio che abbiamo e la nostra tacca la otterremo pure in meno tempo abbiamo la nostra tacca ne facciamo un'altra giusto per vedere quanto si lavora velocemente in questo modo di nuovo tac e sfruttando il nostro peso andiamo a fare pressione verso il basso e sicuramente otterremo un risultato più che soddisfacente ma soprattutto efficace deve bloccare una corda questo è quindi niente di particolare è un lavoro che potrebbe essere definito di fino ma guardate in pochissimo tempo ottenuto sia la mia punta che due tacche addirittura buono lavora abbastanza bene così senza volerla utilizzare come un coltello continuiamo con gli ultimi lavori non so se avete notato ma sto facendo soltanto ciò che io farei se stessi lavorando al mio campo quindi devo raccogliere legna lavorare la legna per il fuoco costruire cose sto facendo gli stessi lavori che farei normalmente quindi non possono mancare i feather sticks il parang secondo me è un ottimo coltello per fare questo tipo di lavori perché è spesso sì ma è anche molto alta la lama fino alla fine qui diventa sottilissimo quindi è molto preciso riesce a penetrare molto nel legno e soprattutto avendo quest'incavo qui per il dito è tutto ben bilanciato quindi io mi ci trovo benissimo veramente bene e riesco a fare dei bei ricciolini vedete riprovo vedete dei ricciolini però io in realtà del parangolo sapevo sono curioso della fiscars perché ovviamente è un accetta non è un lavoro che fai abitualmente con un accetta perciò proviamola la fiscars ha un bisello pazzesco e affilatissima quindi secondo me comunque non se la dovrebbe cavare proprio malissimo proviamo se mi concentro vengono molto più spessi bisogna impegnarsi parecchio però vedete di tagliare taglia cioè non è quello il suo problema è la la precisione insomma che io almeno al momento dato che non ho fatto tanta pratica non riesco ad ottenere ma non è che mi piacciono più di tanto sti fader sticks però sto lavorando con un accetta e guardate come affonda nel legno guardate come lo taglia sembra veramente burro con un po di impegno sicuramente assolutamente si possono fare dei fader stick fader sticks più decenti guardate come entra nel legno è una cosa pazzesca però vi ripeto non sono abbastanza pratico vediamo per l'ultima volta questi bei riccioli vedete il parang è molto molto più preciso guardate con l'accetta boh si secondo me è molto più difficile ottenere una cosa del genere non si può far scivolare come si deve la lama nel legno bisogna impegnarsi veramente tanto e comunque non vengono bene a parer mio sì questo qui è il primo round in cui io posso assolutamente dire che il coltello si è comportato nettamente meglio dell'accetta però questo forse è l'unico dato che prima la tacca l'ho fatta sfruttando la base d'appoggio e quindi ho trovato un metodo alternativo diciamo non l'ho utilizzata come se fosse un coltello proviamo a utilizzarla in un altro modo voglio vedere così se riesco ad essere un po più preciso ed effettivamente qualcosina viene fuori vedete ecco bisogna soltanto trovare il proprio modo di fare le cose guardate che bello quasi quasi vengono meglio di quelli fatti col coltello quindi sì diciamo che ok prima il round era vinto nettamente dal coltello però ho ideato quest'altro modo di fare sti feather sticks che ovviamente non ho ideato io però me lo sono ricordato ora e in questo modo si può tagliare molto molto meglio sono molto più preciso perché non sto muovendo l'accetta ma il pezzo di legno quindi regolo io la pressione da fare regolo io quanto muoverlo quanto strisciare lungo la lama sì questa tecnica è ideale per fare dei feather sticks in maniera giusta e precisa con un accetta del genere io così non ce la faccio così mi 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 trovo proprio male scomodo cioè vengono perché l'accetta taglia un casino ma sono brutti si staccano devo fare molto più fatica non mi ci trovo l'ultimo dei lavori che assolutamente uno strumento che mi porto assieme deve fare è poter fare dei truccioli con il fatwood deve poter consumare la legna per creare un'esca vedete questi truccioli sottili sottili lo strumento che che mi porto con me sempre soprattutto se è l'unico deve poterlo fare con il parang ad esempio sfrutto questi questi dentini che sono fatti per tenerci il dito sopra io li sfrutto così perché mordono di più il legno e soprattutto perché sono più vicini al al punto dove ho il coltello mi ci trovo meglio insomma lavora bene proviamo con l'accetta secondo me sarà un po scomodo come cavolo devo fare perché questi bordi non sono affilati quindi non lo so non saprei proprio non so come lavorare potrei ovviamente usare il filo ma è sconsigliato nel senso che il filo serve per tagliare serve per fare altri lavori lo andate a rovinare perciò non saprei come fare vedete così non succede proprio niente vediamo in questo modo dai forse qualcosina si riesce a ottenere però poco no la fiscars non va bene per per fare questo lavoro qua mi dispiace e di conseguenza penso sia chiaro anche con l'acciarino non va bene no assolutamente è col cavolo che utilizzo utilizzo il filo mentre vediamo il parang boom subito e niente quindi per utilizzare l'acciarino almeno in questo caso utilizzando questi due modelli specifici la laccetta non è andata bene però il coltello si tra l'altro guardate che bomba di acciarino che sto utilizzando guardate quanto è non tanto lungo ma spesso questo è spesso un centimetro una bestia quale scelgo la scelta è difficile vi confesso che sono arrivato qui per fare il test e tifavo per l'accetta ero convinto che avrebbe fatto tutto quanto meglio di un coltello soprattutto spaccare la legna ma dai test almeno con questo coltello qui avete visto che non si è spaventato minimamente dell'avversario o un accetta non ha per niente perso colpi a fa tutto quanto egregiamente quindi forse se dovessi scegliere pur tifando per l'accetta in precedenza forse sceglierei il parang porca miseria che coltellaccio mi ha veramente stupito e soddisfatto non pensavo che potesse essere così prestante ovviamente l'ho utilizzato però poco ma soprattutto non l'ho mai utilizzato a confronto con un'accetta perciò mettendoli a paragone poi ho potuto notare che è una bomba di coltello oh questa qua è un'accetta è piccola ok ma è pesante questa qua è la stessa testa della x7 quindi è pesante bella robusta tosta c'è un bisello che ammazzerebbe qualsiasi cosa universale nel mondo un dio un qualche cavolo quindi è veramente una bestia di di accetta comodissima potete portarvela ovunque perché piccola e compatta però mi sa che si è fatta comunque battere da un coltello poi tra l'altro non parliamo della portabilità con la fiscars cioè avete sto sto coso qui è scomodo alla cinta poteste volendo metterla però vedete è sottilissimo cioè a meno che non utilizzate un filo non c'entrerà mai nella nella cinta che utilizza una persona normale mentre il parang potete attaccarvelo all'anima pure prima di tutto avete il blocco qua quindi non ve lo perdete poi potete attaccarlo qui alla cinta potete portarlo in maniera orizzontale a attacchi molle da tutte le parti qua potete attaccarci roba anzi questo non ve l'ho fatto vedere volendo ha pure una seconda chiusura qui per bloccare la lama che non si stacca più poi alla fine qui la bloccate ancora meglio insomma potete portarvelo in qualsiasi maniera e sicuramente non lo andate a perdere molto più comodo l'accetta diciamo che non è il massimo dovreste tenerla nello zaino e basta oppure potreste comprare un qualche cosa di esterno di terze parti per portarvela questo ok certo si può fare potete fare una custodia in cuoio una cosa del genere in kydex ok però questo è quello che comprate e avete non dovete acquistare altro con il coltello con l'accetta volendo dovreste farlo e niente spero che questo video vi sia piaciuto che sia stato di intrattenimento che sia stato utile era giusto una mia curiosità volevo testarli metterli a confronto per capire in una situazione in cui mi sarebbe servito soltanto un accessorio oppure non avrei potuto portare altro volevo capire cosa avrei dovuto portare secondo me vince in questa situazione qua il parang fatemi sapere però voi cosa ne pensate se avete fatto un test del genere avete soltanto uno strumento che potete portarvi dietro accetta piccolina oppure big coltello fatemi sapere voi nei commenti qui sotto la vostra opinione se non siete iscritti al canale iscrivetevi mi raccomando venitemi a seguire anche su instagram e noi ci vediamo con un prossimo video ciao ciao